Buongiorno, sono Silvio Battistoni, chef di cucina ristorante Colonne di Varese, Italia. Sono onorato di essere l'ambasciatore della Berner Europa e oltretutto anche della Cooks and Chef Institute Foundation. La Berner produce casseruoli di alto livello che danno riscontro di affidabilità con grande robustezza e sono veramente felice di poter cucinare nelle casseruoli della Berner. La mia è una cucina istintiva, creativa ed è importante oltre all'esperienza e alla tecnica avere anche materiale che ci possa permettere di preparare dei cibi sani e grazie a queste pentole io riesco a dare dei grandi risultati alle mie ricette. Grazie alla Berner è ancora onorato di esserne l'ambasciatore. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.